Musica Ciao a tutti ragazzi, sono Tassi e benvenuti in questo nuovo episodio di Ulissecraft Allora, oggi andremo a lavorare sicuramente sull'energia come vi avevo già promesso Rimandiamo ancora a qualche episodino, diciamo, la costruzione dei nostri piccoli tank O comunque i nostri macchinari della Galacticraft, li vedremo molto presto, quindi non preoccupatevi Allora, prima di tutto andiamo prima a farci questo qui, lo spellbook, che serve per il nostro spell al momento Mi hanno detto che tipo... che cavola, ok, che brutta cosa che ci ho attivato questo coso Allora, vediamo un attimo di levarlo Vediamo in utility Ok, no, giusto Beh? Ah, ok, l'ho disattivata Va bene, colpa mia Allora, diamo un attimo sto magnete Mi hanno detto che se clicco qua sopra, se non sbaglio Cioè, shift qua sopra, mi hanno detto Potevo continuare il coso, ma mi sembra che forse... È una sciocca... No, quello l'ho perso, va bene Tanto non potevo anche costruirlo per adesso, quindi ci accontentiamo Allora, qui per funzionamento va benissimo Sto pensando di passare una versione server del modpack perché mi sarebbe più utile per scavare e fare altre robe Però ora vediamo un attimo cosa riusciamo a fare Allora, svuettiamo un attimo queste robe Benissimo Andiamoci a fare quindi lo spellbook Ehm, ci siamo delle stringhe Che non abbiamo Però abbiamo un po' di cotone, va Ok Allora, ho un mouse che si sta ancora distruggendo È una brutta cosa che ogni volta mi si distrugge un mouse Benissimo Ehm, quindi andiamo a mettere queste stringhe Ehm, mettiamole qua Uno, due, tre Benissimo Spellbook E se non sbaglio Adesso Posso metterci le spell dentro Benissimo Vedete Poi cambiando noi con shift se non sbaglio Vedete, shift è tipo Ehm, il tasto centrale Possiamo cambiare spell Benissimo Poi vi avrete detto di fare un'altra cosa Allora Arse magica Ehm, arse Ok Mi serve questa cosa Ovvero il blue shark O cosa del genere Che mi creerà un bel po' di robe Quindi Facciamo così Ehm, mi serve un attimo Un po' di queste sugarcannel Allora Quanto ci boviamo? Mh, abbastanza Va benissimo Allora, direi Mettiamoci questo libro qua Ehm, spellbook Cosa abbiamo? Archer working of alteration Vabbè, dettagli Non so nemmeno che cosa ho scritto Perché l'ho scritto una cosa del genere Ma, vabbè Allora Ehm, come energia Volevo provare ad andare con Dell'energia di Ehm, build craft Come ho già detto Ma, eh Utilizzando sempre la vecchia Ehm, risorsa Che è l'oil E trasformandolo poi in Altra roba tipo Cose fighe Poi vedremo un attimo come fare Ehm, allora Mi avete detto che Ehm, era a distanza 3 sempre Ok Vedete che è andato adesso? Benissimo Quindi in teoria adesso Se io sparo queste cose Dovrebbe ricaricarmi il mana Molto più velocemente Ehm, no Allora, mi avete detto che era comunque distante 3 Quindi facciamo distante 3 Perché presumo che così non funziona 1, 2 1 E 2 Benissimo Ok, vedete che adesso va un po' velocemente A me non sembra a me così Vediamo un attimo Devo buttare un po' di questi Ehm, prende davvero poco Non so se E' questa la ricarica del mana Ma vabbè Questi sono dettagli In ogni caso dovevo farlo Quindi GG Allora, voglio un attimo Mettermi in forma alata Ovvero il nostro bet Che ci accompagna ormai Da troppe e troppe puntate E andare un attimo A deserto S No, deser Mi hanno trovato ben due deserti Sinceramente Ehi Ehi, ehi Allora Ehm, siamo in un brutto posto Oh cavolo Ho preso un bel po' di danni Allora Andiamo un attimo Questo è il nostro deserto Dobbiamo trovare un po' di Ehm, petrolio Petrolio, petrolio Uh, guardate quanto petrolio c'è lì Un sacco Bene Ehm, quello è un dungeon Ma cosa me ne accorgo Dal fatto che tipo Stanno spawnando Oltre che stanno spawnando Tipi strani Inquietanti Che posso uccidere Con la mia cosa Ok Qui sotto c'è un dungeon Ok Eh, vabbè Ok Allora Stato un secondo Che voglio un attimo vedere Se troviamo una portal gun Allora Lì c'è una chest Ehm Interessante Fatti di te Iridium Figo Ok Eh, penso che ci sia un'altra chest Probabilmente No, non ci sono Questi dungeon così Sono abbastanza rari Uh, un villaggio Interessante Controlla un attimo Che cosa hanno Oh, sono vicini pure Alla nostra bella Base di petrolio Quindi Mi fa piacere Questa cosa Vediamo qui dentro Cos'hanno Di carino Coccoloso Ok, entriamo Uh, bronze sword Pile of ashes Non so cosa mi serva Però penso Si possa cuocere Utilizzabile In qualche cosa di quello Diamo se hanno una casetta Di Tinker construct Che sarebbe una bella cosa Tipo questa Infatti è questa C'è anche un tipo Un tizio che bussa E mi dica Problemi? Ok Lasciamo stare con la porta Entriamo qui dentro Uh, guardate le belle cose Che ha qui Interessante E dovrebbe avere anche Un bel po' di questi Uh, quanti pannelli C'è qua dentro Mi piace Mettiamo Anzi, facciamo così Possiamo comunque Sempre costruirci la roba Quindi Mettiamoci queste robe No, questo mi interessava No, questo no Qual era che ho messo dentro No, niente, ok Benissimo Qui facciamo un punto Con scritto Tinker Ok Andiamo sopra Se ha qualcosa interessante Ma non penso Sopra non ho mai niente Allora, qui abbiamo Del petrolio Quindi Facciamo B Petre Petro Petro Tu sarai il nostro bel Petro E andiamo a casa Devo andare a creare Una piccola pump Un paio di oggetti E poi siamo pronti A far tutto Completamente Gratuitamente Ok Come sempre Non so se siete aggiornati Sul modo di Minecraft Ma oggi È uscita La 1.7 Quindi Mi fa piacere Anche il fatto che Dovremmo cambiare mondo Quindi Non molto presto Perché ci vorrà un po' Per far uscire Far uscire abbastanza mode Quasi tutte Precisamente Perché non voglio Dover perdere questo mondo Quindi dovremmo aspettare Un pochetto Ah, questo mondo Lo prenderò comunque Oddio Sì, ha ragione Quindi Dovremmo aspettare comunque Un bel po' E Però Spero Qualcosa di molto carino Tipo Cycraft Che era molto bella Soprattutto per i tank E qualche altra Cosa Bella Sì, più o meno Tipo la E Una cosa del genere Mi farebbe Abbastanza comodo Ok, abbiamo uno di questo Poi stick Ok 1, 2, 3, 4 Allora, ma Potevo fare la pump Ok Se avete doppi clic È tranquilli ragazzi È normale Uh Uh, interessante C'è anche una pump Che funziona Questo Dovremmo avere un solar panel È giusto Quasi quasi ragazzi Ah, mi fate venire un'idea Io il crafter è questa pump Ok, empty cell Poi Eh, questo qua Non abbiamo Rubber Abbiamo questa rubber Eh, vediamo Rubber Abbiamo le rubber tree È interessante Ok, potremmo fare così Potremmo fare Allora, abbiamo del bone mill Abbiamo delle bone Benissimo Io questi qua Si proverei a vedere Se quello è utile Interessante il fatto Che hanno aggiunto anche quello Ok Mettiamoci questo Vedete che i ruboli Non si sentono molto alti Però vabbè È normale Perché siamo Su un pianeta strano Io direi Che possiamo anche Metterci questi Cosi qua Ah, non ci vanno È vero Che brutta cosa Eh, aia Ok, questo non crash Bene Me ne servono Pochi Perché Poca roba era Ok, 10 11 E 12 Presumo Sì, ok 12 Facciamo crash un attimo qua E qui l'energia arriva C'è abbastanza energia No, vedete se ferma No, funziona ancora Stranamente funziona ancora Ok Ehm Vediamo un attimo Se funziona come la vecchia pump Oppure no Perché Sarebbe utile Per il fatto che È autoalimentato Perché Dovrebbe bastare L'energia Della nostra Il nostro solar panel Quindi vediamo un attimo Se va bene Perché In quel caso Passeremo qualcosa Di un po' più innovativo Dai Allora Ehm Vediamo se questo funziona No, come sempre La nostra piccola Cosa È spaccata Oh cavolo Ho perso anche il coso Benissimo Ehm Mi serve un attimo Un vetro Clear glass Bene Quindi per esempio Questo possiamo lasciare Questo e questo anche Ok Allora Rubber Rubber Perché due Ah ok Abbiamo poco copper Ehm Copper Ok Ehm Velocità Dov'è che l'avevo messo Nel Le ho persi Hm Mi sa che le ho persi Quelle velocità Vabbè dettagli Ok Tre Me ne servono altri Me ne servono Almeno Un'altra Tre Poi cos'altro Mi serviva Ah ok Un basic machine Ehm C'abbiamo già un basic Sì c'abbiamo comunque Ah no Ce l'abbiamo Un electronic circuit Cosa Mi serve soltanto questo Mi serve quindi Uno Ah no Otto Benissimo Ok Quindi abbiamo tutto Abbiamo Mi serve soltanto del wood Ok Andiamo a cercare Craftare un Piccolo Cosino Ok Che è il nostro Treat up Ok Dovremmo aver tutto Quindi adesso Ok Pum Benissimo Mi serve anche un ender tank Ne abbiamo 61 Ne abbiamo Però penso che Se Riusciamo adesso Ad alimentare Anche questo In teoria Ce la dovremmo fare Potrei anche Craftarmi Un ender tank Ehm Vediamo blades Quanti ne abbiamo Mh Pochi Anzi Non abbiamo proprio blades Dovremo andare Di dentro Però la voglia È poco poca Quindi facciamo così Visto che qui Metteremo comunque Il nostro impianto Senza problemi Spacchiamo questo Ok Ehi Oh L'ho preso al volo Sì Sono un grande Benissimo Ehm Qui anche Ho perso uno Ma mi sa che forse Mettere magnet qui È un'ottima cosa Ah no Qui c'era solo uno Ok Ottimo Ehm Ci stavano un attimo Rapislato Facciamolo blu Benissimo Andiamo nel nostro Mondo normale Andiamo di qua Ok Andiamo 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 A petro E Ehm Mettiamolo un po' in alto Abbiamo degli oak Quindi proviamo A inserirlo così Mettiamolo in questo modo Non so se scenderà Il coso Oppure no Ehm Presumo di sì Proviamo a dare energia Per esempio Mettiamoci un solar panel Qua Mettiamocelo qua Benissimo Riceve energia Bene Questa è già una grande cosa Vorrei vedere adesso Sì Però Me lo prende O no Lapislazzoli Ok Mh No Presumo che non vada In questo modo Oì Ok Proviamo a metterlo tipo Dentro direttamente Tipo qua Ok Ehi Sono al panel Da questo lato Quindi dovrebbe prendere energia Oh No la prende La prende La prende dai lati Quindi presumo che Basta che sia all'interno Eh ma così non Non lo prenderà Più di tanto Mi serve Il centro Al centro Prima di questo liquido Che non torna normale Quindi non penso Sia un'ottima idea Eh ok Vabbè però abbiamo provato Dai Non è male Ok Ehm Non è tanto ampio Sinceramente E' unito a questo Anche Opla Ehm Quindi Penso che andremo A fare un normale Pump Se Penso di proprio di si Vediamo un attimo Amai c'è del petrolio di più Perché questo non scende Invece l'altro scendeva E era molto più figo Una cosa Ehm Proviamo per esempio A metterlo di qua Adesso Ok Vedete che Entra Benissimo Lo prende Penso Anche i lati Però Allora va bene No Più di tanto non prende Quindi no Non va bene Vabbè comunque Interessante per l'acqua Più che altro Potremmo fare una pump di acqua Questo si Ok Quindi torniamo un attimo a casa Anzi Vado a craftare un attimo Il nostro piccolo coso E arrivo subito Ok ragazzi Rieccomi allora Ho fatto tutto Ho fatto anche 6 combustion engine Giusto che ci stavamo Ok E allora andiamo da Petro Petro Stiamo arrivando Benissimo Allora Pump Qua Ehm Di qua dobbiamo spaccare questo Vediamo delle leve No Benissimo Semplice semplice Ehm Prendo in prestito qualche pezzo di coble Stanno tranquillo eh Ma grazie Non dovevi Nemmeno tu Bene Ok Vedete che inizia a scendere qua almeno Ehm Qua risucchia tutto senza problemi Non si fa proprio scrupoli Anche se penso che sia piccolo questo spazio Di petrolio Di qui ce ne è molto di più Ah penso che sia tutto collegato Probabilmente Tipo qui sotto Da qualche parte Deve confluire Quindi Oh vabbè Adesso ci accontentiamo Se poi Finisce Vedremo Adesso facciamo un attimo Un paio di stick Un paio di Di leve Mettiamo 3 di questi Queste engine 1 2 2 E 3 Bene Ricordiamo che possiamo mettere adesso dietro Senza problemi Come Ulisse voleva sempre fare Ci mettiamo questo endertank Benissimo Ok Questo endertank lo facciamo Blu 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 Eh Se ci ritrasformiamo in normale Le facciamo blu blu Ok sta entrando il petrolio Blu 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 Benissimo Vediamo Non posso fare uno zoom Però Si sta arrivando il petrolio Vedete che sta arrivando Ok Allora casa Bene Torniamo dentro Ottimo Allora ho preso un attimo Un paio di bucket E mi voglio trasformare in bet Veloce Ehm Dove li possiamo mettere Questi engine Per ora Io li farei lavorare tutti qui Sinceramente Tutti al contrario In modo molto meschino Ok Così Così Per esempio Così 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 E qua un altro Benissimo Poi mi servono un bel po' di gold Pipe Ok Pipe Abbiamo questi qua Questi qua Abbiamo 6 di wood Abbiamo un bel po' di redstone Senza problemi Abbiamo anche un bel po' di gold Per questo Eh no Mi sembra un normale glass Ok Benissimo Questo qua E questo qua Ottimo Allora Ehm Scendiamo giù Stiamo di qua Ok Che non ho staccato Opla Anche qua sto A posto A posto E qui sotto E qui sotto va benissimo Così più o meno Cioè dire di sì Ok Quindi di qua Poi devo trovare un modo per entrare Quindi E' stata una pessima idea Scegliere quel posto Per Entrare Poi Ehm Devo far arrivare Uno Anche di lì Devo far arrivare Però adesso ci fermiamo almeno a quella parte Poi quello Lo possiamo fare anche noi Ehm Quando non stiamo facendo nulla Per adesso Ehm Facciamo in questo modo Poi Dovremo avere un po' di cactus green Cactus Ok E un po' di questi gold Opla Allora gold Cactus Ah cactus Prima dobbiamo farli così Ok Se non lagga Allora pipe Abbiamo dei Eccolo qua Un altro soltanto Ci possiamo contentare Ottimo E Ehm Ci serve un attimo Cambiare questo qua Bene Quindi andiamo dietro Facciamo almeno questi tre Dai Almeno Sfruttiamo questi tre Ehm Qua Uno Due E tre Ehm E poi Ebbè Qui dobbiamo farci In questo modo Così anche Il quarto Penso che No ok Solo così facciamo Benissimo No la lava Mi raccomando Dobbiamo Spaccare questo vetro Ok Torniamo un attimo Alla nostra farma normale E disegniamoci sopra Il blu blu Bene Ora sta svuotando Riempendo E dov'è la nostra leva Ok Sta uscendo il petrolio Quindi sta iniziando a riempirsi Anche qua E Il problema adesso Essenziale Sarà come lo riempiamo Di acqua Non abbiamo Lenderio Che cosa Molto brutta Se si è svuotato Con il petrolio Non va bene Devo trovare qualcosa di migliore Allora Ehm Da questo lato No da sotto Sta passato di qua Quindi L'unico modo sarebbe Far andare da sopra Ehm Quindi Mettiamoci un attimo Questa cosa qua Ehm Chiudiamo qua Questo qua Dovremmo fare In un modo abbastanza Semplice Più o meno Si Direi di si Allora Qua comunque arrivano Not in a power Inizia già a perdere energia Abbiamo ancora un po' di ossigeno Quindi dovremmo farcela Electric engine Pump Questa e questa Ok Questa buttiamo qui dentro E anche questi cavi Bene Ehm Allora Ehm Ci devo un attimo Ricoperare Un po' di cactus Vieni Andiamo nel Dese Guarda Questa sono Mami Vero Ok Dai Dai Ok Abbiamo un po' di Questi cactus qua Oh Uh Livello 7 Ragazzi Ora Chiriamo uno O prendiamo PX Mi sembra Però è bello avere Livello 7 Dai Il burnout Ci indica Quanto dobbiamo andare Veloci Dobbiamo andare Molto Venti Molto Non tanto Veloci Ok Questo Questo E questo Ouch Lì c'è un creeper Strano Che mi interessa Perché ha un cappello Che voglio mettere Subito Eh bravo Questa è una piccola Uh Della marble Più lo uso E più diventa forte Quello che mi avete detto Quindi spero che sia così Quanto usa Oddio 6 7 8 Dai Dai Una sola palla Mi serve Uh Peccato Vello 8 Oh Diventa sempre più grande L'ex Menomale Ok Guardate Che bella esperienza Che arriva Oh Oh no Non ho più Cosa Ok Copriamo l'esperienza E io direi Possiamo anche Inciattarci qualche piccone Più che altro Allora Abbiamo 15 Benissimo Divaggiamo sempre In altre robe Quando andiamo qua Però fa nulla Allora Qua Andiamo di qua Andiamo qua Allora Ehm Per ora Come ho già detto L'acqua la voglio sfruttare Utilizzando Un po' di Ohi Un po' di altre cose Ok Devo un attimo Rilogare nel client Ottimo Opla Ce la facciamo Ce la facciamo Ce la possiamo fare Bene Ok Cactus green Ok Liviamo sto capsula Ehm Pipe 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 Dove sono i miei pipe Gold Ok A posto Trasformiamoli Un bel po' di questi In questo qua E Problema adesso L'energia Io la devo far arrivare In ogni caso Quindi Ehm Dovrei fare forza in questo modo Dovrei fare A posto E Ehm Dovrei farlo uscire da quel lato Dovrei farmi il coso per coprire tutto Perché non mi piace sta cosa Che sia molto brutto Ok L'acqua adesso Come la faccio entrare io Ehm Allora abbiamo detto Che Possiamo utilizzare Mh Potremmo utilizzare un paio di robe Però per adesso Limitiamoci Utilizzare questo petrolio Uh qua c'è tutto addirittura Qua è un bel po' Ehm Potrei attivarlo Però mi servirà dell'acqua Come ho già detto Ehm Direi 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 Utilizziamo questo Ok Mettiamolo lì C'è una sola pump Dove esce tutta l'acqua va Tanto Mi servirà comunque A posto E poi andiamo nel mondo normale Eh giusto Devo andare Devo passare prima di qua Andiamo nel mondo normale Ricopriamo quell'altro Mi farò un altro Ehm Piccolo Cioè Un attimo La ricerca dei blades Che abbiamo già trovato Se non sbaglio Ehm Però dovrò andare a prenderne Un bel po' di quei cosi C'è ancora C'è quindi Non so Eh vedete Molto piccolo Non va bene questa cosa Deve essere molto profondo Se no Non è buono per noi Ok Ehm Qua mi ho messo comunque a Pietro A Petro Petro non è Pietro Lui non si chiamerà mai Pietro Benissimo Ottimo Ehm Andiamoci a mettere quella roba lì Ehm Qui dietro Oh merda Quindi Giriamo Torniamo al nostro Piccolo coso E Padam Ok Benissimo L'acqua arriva Quindi tutto senza problemi Ok Benissimo Quindi l'acqua arriva Dobbiamo crearci qualche altra roba Per adesso Va benissimo Ehm Ci rimane adesso L'ultimo vero Grande problema Attivare il tutto Dovremo avere del red wire Se non sbaglio Red No abbiamo red wire Non abbiamo Però in teoria Da quello che ho capito Se tutto si può mettere Sopra tutto Noi possiamo Tornarci in bet Prima Per poter almeno camminare Qua Qua sotto Oh merda Ok E fare in questo modo No Tra l'altro sta sopra Redstone Che brutta cosa Volevo sfruttare il fatto Che si potesse Fare in questo modo Vabbè Creatiamoci veloce Il nostro Wire Anzi per adesso Mettiamoci delle leva Nel prossimo episodio Andremo un po' a fare Qualcosa Di carino Sicuramente Lavoreremo Sulla galactic Che vi ho già promesso Ok Benissimo Quindi adesso Dovrebbero attivarsi Vero Ok Però lo sa Però adesso Le leve sono Più che essenziali E abbastanza Ok Quindi ragazzi Vi saluto nel questo episodio Ci vediamo nel prossimo episodio E da lì se è tutto Ciao ciao ragazzi